Ruti Vendola, regina di Coattonia, posso andare avanti per ore? Tutto quello che le hanno detto. Borgatara, ovviamente. Ma l'accusano di demagogia? Ma guardi, a me mi accusano di qualsiasi cosa, per cui voglio dire, se dovessi entrare nel merito non ne usciremmo mai più. Io ho detto una cosa abbastanza semplice. Sono fiera del fatto che a un anno e mezzo di distanza dal giorno in cui sono diventata Presidente del Consiglio, la gran parte delle persone che mi incontra per strada e si rivolge a me mi chiami ancora Giorgia. Perché io temevo che il ruolo potesse creare una distanza, era una cosa che mi spaventava. Sono fiera del fatto che questo non sia accaduto. Sono fiera del fatto che le persone pensino ancora di potermi dare e mi diano ancora del tu, perché sì, Borgatara, Pesciarola, lo possono definire come voglio. Sicuramente io sono una persona che viene dal popolo. E loro hanno considerato questi epiteti che mi sono stati rivolti negli anni come il peggiore insulto che mi si potesse rivolgere, non capendo che per me non lo era. Non capendo che per me non lo era, perché se è vero che io sono una Borgatara, una Pesciarola, una Frutti Vendola, e è vero che io sono diventata Presidente del Consiglio dei Ministri, vuol dire che il destino delle persone sulla carta non è determinato dalla loro condizione d'origine. Quindi mentre il senatore, per esempio, Cottarelli risponde quando io ho detto scrivete Giorgia sulla scheda, no, io sono laureato, non mi chiamate Carlo, chiamatemi Dottor Cottarelli perché mi sono laureato, per carità. Bene, bello, bravo. Però in Italia c'è anche tanta gente che non è stata nella condizione di laurearsi. Per cui il messaggio che voglio dare io è, se puoi laurearti fai benissimo a farlo, devi farlo. Se non sei nella condizione di partenza per poterti permettere di attraversare l'università, di fare la laurea, non vuol dire che il tuo destino sia segnato per questo. Hai ancora tantissimi obiettivi che vuoi, che puoi raggiungere. Per cui io questo mondo determinato sulla base delle condizioni di partenza, nel quale c'è chi è migliore e più bravo e ci sono invece i poveracci del popolo, non sarà mai il mio mondo. Il mondo che vorrei anche contribuire a costruire in questa nazione è un mondo nel quale quello che puoi fare nella vita non è determinato dalla condizione dalla quale provieni, ma è determinato dalla tua disponibilità al sacrificio, dalla tua capacità di lavorare, dalla tua capacità di dimostrare quello che vali. E quindi non ci sono i dottori e i pesciaroli, ci sono i cittadini e ciascun cittadino contribuisce al meglio delle sue opportunità, delle sue possibilità a fare la grandezza della nostra comunità nazionale. Io la vedo così, però in questo non siamo uguali.